Una vasta e robusta area di alta pressione interessa gran parte dell'Europa, garantendo condizioni di stabilità anche sulla Toscana. Nessuna variazione significativa è attesa nei prossimi giorni. In Toscana, venerdì 6 novembre, sereno poco nuvoloso, salvo residui addensamenti sui rilievi orientali e meridionali, venti deboli o moderati di grecale con locali rinforzi, ma in graduale attenuazione. Mari poco mossi sotto costa, localmente mossi a largo. Temperature minime in calo, con valori anche inferiori a 7-8 gradi nelle valli interne riparate dal vento, massime pressoché stazionarie, intorno a 17-20 gradi in pianura. Sul territorio provinciale, cielo ovunque sereno. A Lucca e sulla Piana, temperatura minima 8, massima 19 gradi. A Castelnuovo-Garfagnane, zone montane, minima 7, massima 18. A Viareggio sul litorale, minima 12, massima 19 gradi. Sabato ancora cielo sereno, velato in serata.